bene facciamo oggi la correzione della verifica sulle equazioni e problemi risolubili con equazioni di primo grado la verifica era impostata in questo modo c'erano cinque equazioni sempre ovviamente di primo grado alcune con prodotti notevoli ma comunque si dicevano a primo grado e tre problemi ok cominciamo con la prima l'incolo qua sotto la cosa da fare ovviamente togliere parentesi e fare in modo che a sinistra dell'uguale ci sono tutte le x a destra tutti i termini senza x semplificare e risolvere l'equazione quindi togliamo le parentesi meno 2 per x fa meno 2 x meno 2 per meno 1 fa più 2 poi ho meno 2 x meno meno fa più 3 e a destra o 5 meno x qui per ridurre i termini quindi spostare meno termini ci conviene sommare qui abbiamo meno 2 x e meno 2 x sono simili e 2 e 3 sono sommabili mentre a destra i termini non sono sommabili perché sono dissimili tra loro quindi meno 2 meno 2 fa meno 4 x 2 e 3 fa 5 5 meno x i 2 e 5 come sono la stessa grandezza destra sinistra dell'uguale si possono cancellare basta togliere scusate solo un secondo ok continuiamo scusate interruzione quindi abbiamo a sinistra meno 4 a destra meno x esposto il termine meno x a sinistra quindi viene meno 4 x più x uguale a 0 meno 4 x più x fa meno 3 x li divido a destra a sinistra per meno 3 quindi a sinistra viene x e 0 diviso meno 3 fa comunque 0 quindi la soluzione è x uguale a zero l'equazione è determinata la soluzione x uguale a zero il fatto che a destra venga a zero non è un problema perché zero si può dividere per meno 3 ci sono domande e passiamo alla seconda coppio qui c'erano alcuni prodotti notevoli da dover utilizzare perché il testo chiedeva diceva chiaramente quando ci sono prodotti notevoli devi utilizzare i prodotti notevoli non era opzionale 2 qui abbiamo la prima parentesi il quadrato di un binomio poi abbiamo somma per differenza e ancora il quadrato di un binomio quindi x meno 1 la seconda è il quadrato del primo x la seconda il doppio prodotto 2 per x per meno 1 fa meno 2 x e il quadrato del secondo più meno 1 la seconda fa più 1 poi abbiamo meno 2 x più 1 per x meno 1 insomma per differenza fa il quadrato del primo termine x la seconda meno il quadrato del secondo termine il quadrato di 1 è 1 quindi viene meno 1 perché è uguale che abbiamo x più 2 alla seconda quindi ancora quadrato del primo termine x la seconda doppio prodotto tra il primo secondo 2 per x per 2 fa più 4 x e il quadrato del secondo termine più 2 alla seconda fa più 4 poi abbiamo meno 2 x per x che fa meno 2 x la seconda e meno 2 x per meno 3 fa più 6 ok qui abbiamo già possiamo già eliminare i termini x la seconda questo pare a destra e a sinistra dell'uguale si può cancellare d'accordo dopodiché togliamo la parentesi quindi abbiamo meno 2 x più 1 meno 2 x la seconda meno 2 x la seconda meno 2 x per 1 per meno 1 fa più 2 uguale a 4 x più 6 x fa 10 x più 4 meno 2 x la seconda anche qui abbiamo meno 2 x la seconda sia destra che a sinistra si può togliere e a sinistra ci rimane meno 2 x più 1 più 2 fa più 3 e a destra abbiamo 10 x più 4 ok quindi tutto bene qui ci rimane solo da spostare a sinistra il termine 10 x ea destra il 3 quindi quando risposto cambio di segno meno 2 x meno 10 x uguale a 4 meno 3 meno 2 meno 10 fa meno 12 x 4 meno 3 fa 1 qui l'equazione è determinata per il coefficiente di x è diverso da zero quindi dividiamo tutto per meno 12 a sinistra mi rimane x a destra 1 fratto meno 12 e gli amici meno un dodicesimo domande no procedo col terzo esercizio qui abbiamo anche i prodotti notevoli ma alcuni coefficienti sono delle frazioni adesso l'equazione non è frazionaria ma ci sono dei denominatori ok quindi quella cosa più semplice secondo me è quella di sviluppare ovviamente i quadrati e separare i termini quindi evitare di moltiplicare per avere i numeri troppo grandi anche se anche quello non è sbagliato quindi cominciamo con la prima frazione il numeratore x meno 1 la seconda da il quadrato del primo x la seconda meno il prodotto meno 2 x più 1 tutto fratto 4 poi o meno x più una seconda x la seconda più 2 x più 1 tutto fratto 3 poi abbiamo uguale vado a capo 1 più x per 1 meno x anche un prodotto notevole insomma per differenza viene il quadrato del primo 1 bene il quadrato del secondo meno x la seconda tutto diviso 12 poi abbiamo meno questo non è un quadrato quindi lo scrivo così com'è ok adesso separiamo le frazioni quindi quando si parla le frazioni ogni termine del numeratore acquisisce lo stesso denominatore e non solo il primo quindi questa si potrà scrivere come x la seconda diviso 4 oppure un quarto x la seconda se preferite poi meno 2 x fratto 4 poi il 2 e 4 si potranno semplificare e più un quarto poi attenzione questo meno cambia segno a tutto questo il numeratore della frazione che segue perché come se ci fosse una parentesi quindi qui avremo meno x la seconda terzi meno 2 x terzi e meno un terzo è uguale a un dodicesimo meno meno x la seconda dodicesimo x come preferite poi anche qui questo meno cambia segno a tutto questo numeratore non solo il primo termine quindi qui avremo meno x sesti meno meno fa più due sesti o un terzo se preferite semplificare subito ok qui semplifichiamo rispetto alle frazioni semplificabili qui o 1 e 2 1 3 altro non si può fare no ok dopodiché spostiamo i termini con le x a sinistra quelli senza x a destra quindi abbiamo un quarto x la seconda meno un terzo x la seconda li mettiamo in ordine delle x decrescenti poi a destra abbiamo ancora meno un mezzo x meno due terzi x ok poi abbiamo spostando da sinistra dal termine di destra a sinistra abbiamo più seconda fratto 12 più un sesto x uguale abbiamo spostato a destra un quarto che diventa meno un quarto poi abbiamo spostato un terzo che diventa più un terzo adesso rimaneva un dodicesimo e un terzo ok quindi abbiamo fermiamo prima i termini per potenze decrescenti un quarto x la seconda meno un terzo x la seconda più un dodicesimo x la seconda quindi abbiamo il denominatore comune 12 12 diviso 4 3 per 1 3 12 diviso 3 4 per 1 4 quindi meno 4 e ancora più 1 questo da 0 3 più 1 meno 4 fa 0 questo termine vanno via poi ci rimane meno un mezzo x potete evidenziare in verde meno un mezzo x meno due terzi x e più un sesto x più minimo comune multipla tra 2 3 e 6 e 6 6 diviso 2 fa 3 per 1 meno 3 qui abbiamo il meno davanti bisogna tenerne conto poi 6 diviso 3 fa 2 per meno 2 fa meno 4 e poi abbiamo più 1 a destra abbiamo il minimo comune multipla e 12 12 diviso 4 fa 3 per 1 meno 3 12 diviso 3 fa 4 per 1 più 4 poi abbiamo più 1 e di nuovo ancora 12 diviso 3 fa 4 per 1 4 ok il primo termine x la seconda ripeto si cancella perché il coefficiente è nulla poi qui abbiamo meno 3 meno 4 che fa meno 7 più 1 fa meno 6 quindi abbiamo meno 6 sesti x quindi meno x uguale a adesso abbiamo il denominatore 12 quindi 4 e 4 8 e 1 9 meno 3 fa 6 quindi quindi abbiamo il 6 e 12 si possono semplificare e qui ci rimane meno x uguale a un 12 e un mezzo quindi x moltiplico tutto per meno 1 diviene x uguale a meno un mezzo domande ok questo era il esercizio 3 passiamo ai 4 questo tutto sommato era abbastanza semplice il 4 perché semplificava quasi tutto un grandire un pochetto qui abbiamo attenzione un doppio prodotto notevole c'è all'interno un quadrato un altro quadrato e ancora un quadrato e poi una somma per differenza quindi andiamo con ordine il quadrato del primo è x la seconda più 2 x più 1 poi o meno siccome deve sviluppare il quadrato questo la parentesi conviene tenerla e cambiare segno dopo x la seconda meno 2 x più 1 ancora il quadrato della parentesi quadra poi abbiamo uguale 4 x meno 1 per 4 x più 1 quadrato del primo termine meno quadrato del secondo ma il quadrato di 4 e 16 quindi a 16 x la seconda meno 1 ok togliamo le parentesi torna intorno alla quadra del primo termine quindi viene x la seconda più 2 x più 1 meno x la seconda meno e meno fa di più più 2 x e meno e più 1 fa meno 1 qui alcuni termini si cancellano x la seconda meno x la seconda va via 1 e meno 1 fanno 0 ci rimane 2 x più 2 x fa 4 x a destra ci rimane 16 x la seconda meno 1 quindi qui ripeto ci rimane 4 x la seconda 4 x la seconda fa 16 x e quindi portando tutto a sinistra ho 16 x la seconda meno 16 x la seconda uguale a meno 1 questi si cancellano e questo ovviamente è falsa qualunque sia la x quindi questa equazione non ha soluzioni è impossibile nessun valore della x la rende vera ok ancora l'ultima se non mi ricordo male l'ultima equazione era questa la 5 scusate la copio eccola qui attenzione qui si poteva ragionare in questo modo la prima parentesi meno x meno 1 alla seconda il quadrato cancella i meno qui questa espressione meno x meno 1 è esattamente opposta a questa x più 1 perché tutti i termini sono apposti a queste ma il quadrato fa sì che questa espressione sia identica a questa quindi in realtà queste due si possono semplificare direttamente perché sono esattamente la stessa grandezza grazie al quadrato lo stesso vale per la seconda perché x meno 1 rispetto a meno 1 più x hanno solamente i segni invertiti quindi questa grandezza è esattamente identica a questa quindi anche questa si poteva semplificare per cui veniva immediatamente 0 uguale a 0 che è indeterminata non era necessario fare nessun calcolo però per amor di cronaco lo facciamo lo stesso qui il quadrato siccome hanno gli stessi segni sarà x alla seconda 2 per meno x per meno 1 fa più 2x poi più 1 poi qui abbiamo x alla seconda meno 2x più 1 a destra il quadrato di x più 1 è x alla seconda più 2x più 1 il quadrato di meno x più 1 è x alla seconda meno 2x più 1 di nuovo qui come vedete si possono semplificare diverse cose questo va via con questo questo va via con questo il 2x va via con... anzi cambiamo colore 2x va via con 2x poi il meno 2x va via con il meno 2x 1 e 1 fa 2 qui abbiamo ancora 2 anche questi se ne vanno 2 a destra e 2 a sinistra poi in viola quindi rimaneva 0 uguale a 0 questa è indeterminata non indefinita ma indeterminata fammi il termino scrivere bene indeterminata significa qualunque x è soluzione quindi ha infinite soluzioni perché diventa un'identità cioè qualunque x io scelga quello che c'è a sinistra è uguale a quello che c'è a destra d'accordo? passiamo ai problemi prendiamo il primo eccolo qua leggiamo attentamente il testo ok quindi questo era il 6 si vuole conficcare un palo nel terreno ad ogni colpo il palo affonda di un sesto della sua lunghezza non dice altro della sua lunghezza totale non di quella che rimane dopo 4 colpi la parte emersa misura un metro quanto è lungo il palo allora se per ogni colpo affonda di un sesto non di un sesto e basta ma di un sesto della sua lunghezza quindi un sesto di x se x è la lunghezza del palo dopo 4 colpi affonda di 4 volte questa grandezza ok quindi quello che rimane sarà la lunghezza totale meno quello di cui affondata si darà un metro ma 1 meno 4 sesti fa 2 sesti quindi 2 sesti di x vale 1 quindi x vale 2 sesti fa un terzo vale 3 metri la lunghezza del palo è di 3 metri ok domande passiamo al secondo problema esercizio numero 7 eccolo qui questo era un po' più lungo come testo ma in realtà si scelteva anche del cemento dimmi prego certo affonda di 4 sesti di x quindi la parte emersa sarà 6 sesti meno 4 sesti per gli amici 2 sesti questa è la parte emersa 1 dice che la parte che rimane emersa ok perfetto questo era il 7 dice un test è ma non ho tagliato la parte finale un testo è costituito da 25 quesiti a risposta multipla ogni così ogni quesito risolto correttamente da 3 punti ogni risposta è sbagliata fa perdere 2 punti è una risposta non data non fa né perdere né guardare cioè da 0 punti ok Paolo risponde a tutte le domande questo è un dato importante ma dopo aver visto la correzione si rende conto di avere un totale che è 0 qual è il numero dei requisiti a cui ha risposto correttamente qui conviene scegliere x numero delle risposte esatte dato che ha trattato tutte le requisiti ok che erano 25 si è risposto a x quesiti correttamente le requisiti a cui ha risposto in modo sbagliato quanti saranno 25 meno x 25 meno x sarà il numero delle risposte sbagliate ok adesso cosa dice il testo ognuna delle x risposte corrette gli frutta 3 punti ognuna di queste gli fa perdere 2 punti quindi se avesse risposto a una domanda sola correttamente avrebbe guadagnato 3 punti se ne avesse risposto a 2 ne avrebbe guadagnati 6 se ha risposto a x domande correttamente guadagnerà 3 volte x ma siccome 25 meno x sono le risposte sbagliate ognuna di queste 25 meno x gli fa perdere 2 punti quindi a questo dobbiamo togliere quanti punti perde quindi meno 2 volte il numero delle risposte sbagliate 25 meno x e questo gli da un totale di 0 per chi guadagna in totale 0 punti alla fine del test si rende conto che ha 0 punti questa è la nostra equazione quindi abbiamo 3x meno 2 per 25 fa 50 meno 2 per più meno x fa più 2x e questo deve fare 0 3x più 2x fa 5x il 50 lo portiamo a destra diventa più 50 qui dividiamo per 5 e abbiamo che x vale 10 ha risposto a 10 quesiti correttamente e quindi 15 li ha sbagliati ok domande? facciamo anche l'ultimo esercizio numero 8 problema numero 3 come preferite quello qui questo si risolveva in due passi essenzialmente ingrandire questo è il numero 8 dice in un'azienda il macchinario A produce 10 pezzi al minuto mentre B produce 12 pezzi al minuto poi i pezzi vengono imballati in scatole da 15 pezzi ciascuna un giorno viene accesa prima la mattina A e dopo mezz'ora anche la B però non sappiamo per quanto tempo funzionano poi ci dice a un certo istante A e B hanno prodotto lo stesso numero di pezzi in totale quante scatole hanno realizzato cioè nel momento in cui il numero dei pezzi di A e di B è lo stesso quant'è il totale di scatole che si possono riempire ok allora se indichiamo con x ma in realtà x è l'incognita di secondo intermedia quindi cambierei nome chiamiamo con T il numero di minuti di funzionamento per esempio di B ok contiamo il tempo da quando parte B ma da quanto parte B A ha già lavorato mezz'ora ok quindi il numero di pezzi prodotto da A sarà quanti pezzi produce al minuto A 10 in mezz'ora quanti minuti ci sono 30 quindi quando B parte A ha già prodotto 10 per 30 pezzi 300 pezzi poi dopo T minuti ne ha prodotti oltre a questi 300 10 volte T perché produce 10 pezzi al minuto dopo T minuti i pezzi prodotti da A sono 300 più 10 per T quanti pezzi ha prodotto B B se parte dopo mezz'ora in T minuti avrà prodotto 12 per T quando parte non ne ha fatto neanche uno ok quindi dopo quanti minuti i pezzi di A sono tanti quanti quelli di B beh ci chiediamo dopo quanto T il numero di pezzi prodotti da A è uguale a quelli prodotti da B cioè 300 più 10 volte T vale quanto 12 volte T sì o no? bene a questo punto non facciamo altro che portare per esempio il 12 a sinistra quindi 10T meno 12T e il 300 a destra quindi ho 10T meno 12T che fa meno 2T a destra ho meno 300 divido tutto per meno 2 e ho a sinistra T e a destra meno 300 diviso meno 2 per gli amici 150 quindi le due macchine hanno prodotto lo stesso numero di pezzi dopo 150 minuti quanti pezzi? beh cominciamo da B che è più facile 12 per 150 ok per 10 1500 più 300 1800 A sarà 300 più 10 per 150 uguale 1500 più 300 fa 1800 è guai se non fosse così perché abbiamo scelto i minuti T proprio in modo tale che questi due numeri siano uguali quindi il totale n dei pezzi prodotti sarà quelli di A più quelli di B non è che quelli di B cancellano quelli di B e viceversa ma quindi il totale sarà 1800 più 1800 3600 pezzi quindi il numero di scatole x è il numero di scatole sarà il numero di pezzi prodotti diviso il numero di pezzi in ogni scatola quindi 3600 diviso 15 per gli amici 240 state prodotte 240 scatole domande se non ci sono domande ci fermiamo qui quindi la la